buonasera a tutti grazie per esservi connessi a questo webinar della fondazione lavoro per la persona io sono paolo buonini sono membro del comitato scientifico del centro di ricerca della fondazione lavoro per la persona e vi do il benvenuto a questo webinar dal titolo evocativo prendersi cura del lavoro tra produttività e tutele quali policy per il futuro prima di entrare nel vivo dei nostri dei nostri lavori lasciatemi ricordare alcune piccole regole tecniche vi chiediamo di tenere il microfono in muto per evitare rumori di sottofondo e vi ricordo che chiunque lo desideri può porre domande ai relatori direttamente scrivendo nella chat all'account zoom zoom domande che saranno poi poste al termine insomma degli interventi prima di presentarvi e poi dare la parola ai relatori vorrei raccontarvi brevemente che cos'è la fondazione lavoro per la persona e che cosa che cosa facciamo sostanzialmente siamo una fondazione di partecipazione e gruppo formato da persone imprese e organizzazioni e crediamo nella promozione del lavoro come bene fondamentale del uomo in questo senso seguiamo e investiamo nel principio personalista che è anche recepito dalla carta costituzionale italiana appunto e quindi che cerchiamo di leggere il lavoro come un bene irrinunciabile e soprattutto fondamentale non solo per l'individuo ma anche per l'individuo che entra in contatto con gli altri quindi per la persona che crea comunità democrazia e civiltà e quindi è il lavoro come strumento anche di elevazione spirituale un po riprendendo l'idea di ariano olivetti che diceva che appunto riferendosi alla fabbrica ma vale per tutti gli ambienti di lavoro che appunto negli ambienti di lavoro bisogna assumersi il compito fondamentale di generare cultura comunità e democrazia quindi il lavoro come mezzo fondamentale di benessere non solo materiale per tutta la società e la fondazione appunto orienta la sua mission su questo per creare anche ed essere lei stessa la fondazione strumento per creare legami sociali e beni relazionali e per migliorare il mondo che ciascuno di noi abita in un po quello che ci ripetiamo sempre è che quando il lavoro è asservito ad altri fini diventa merce e luogo in cui la dignità dell'uomo degrada fino ad annullarsi e e quindi noi vogliamo proprio investire in tutto il resto cioè vogliamo investire tramite diverse attività nel concetto di lavoro che esalti la persona e le sue vocazioni e quindi bisogna per diciamo creare sistemi generativi coltivare l'umano nell'economia e nel lavoro per questo le varie attività della fondazione coinvolgono tutti diciamo tutte le persone a 360 gradi dai bambini agli adolescenti giovani adulti studenti e lavoratori genitori ed educatori manager imprenditori e artigiani e oggi parliamo appunto di prendersi cura del lavoro tra produttività e tutele quali policy per il futuro è un tema enorme perché come abbiamo visto in questi in questi anni ormai di pandemia siamo in una ancora in una fase di recessione globale e quindi ci sono questi due poli in cui si trova il tema e tutte le dimensioni del lavoro la produttività da una parte e le tutele in un contesto che continua a cambiare di mese in mese e il diciamo il dubbio fondamentale che ci si pone è se in questo contesto di recessione di portata globale possono essere raggiunti gli ambiziosi obiettivi anche posti dall'agenda 2030 delle Nazioni Unite che è l'obiettivo 8 appunto alza l'asticella in questo contesto richiedendo un'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso per tutte e tutti allora in questo in questa fase dove il lavoro è messo sotto sforzo anche dalla digitalizzazione da una nuova economia con nuove professionalità è possibile raggiungere questi questi ambiziosi obiettivi visto che da più parti si si chiede di sviluppare e migliorare gli strumenti tecnologici la ricerca la formazione e il dialogo persino Papa Francesco dice che è indispensabile far crescere e sostenere gruppi dirigenti capaci di elaborare cultura avviare processi tracciare percorsi allargare orizzonti creare appartenenze ecco in questo contesto siamo chiamati a questa sfida ma i problemi sul campo sono tanti e ne parleremo appunto con i nostri autorevoli redatori eh ne rifletteremo con eh Federico Martelloni che è professore associato in diritto del lavoro all'università di Bologna si occupa delle trasformazioni del lavoro e del welfare e ehm è redattore ehm della rivista lavoro e diritto scrive su numerose altre riviste scientifiche eh tra le sue ultime pubblicazioni eh lavoro coordinato e subordinazione l'interferenza delle collaborazioni al progetto e lavoro diritto e democrazia a seguire interverrà intervengono Mario Fiumara che è referente ASBIS del gruppo di lavoro finanza per lo sviluppo sostenibile e del gruppo ehm di lavoro trasversale associazioni di impresa per l'attuazione del patto di Milano giurista è stato dal 1990 al 2018 un alto dirigente di un gruppo bancario multinazionale con responsabilità nella gestione delle risorse fino all'anno 2001 e nella conduzione del business dal 2001 al 2018 attualmente in pensione è stato anche consigliere di amministrazione di banche camere di commercio consorsi di ricerca nonché presidente per le regioni Emilia Romagna e Lazio dell'associazione bancaria italiana e eh con Maria Enrica Virgilito che è ricercatrice in economia politica presso l'istituto di economia della scuola superiore Sant'Anna di Pisa eh dopo il dottorato dal 2017 al 2019 è stata ricercatrice presso il dipartimento di politica economica dell'università eh cattolica del Sacro Cuore di Milano ha svolto diversi periodi di ricerca all'estero in istituzioni di prestigio eh research fellow presso il Global Labor Organization è membro di progetti di ricerca Horizon 2020 finanziati dell'Unione Europea e collabora con istituzioni internazionali come l'ILO e eh l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. I suoi temi di ricerca riguardano la dinamica evolutiva di imprese e settori produttivi, l'analisi del cambiamento tecnologico e ehm relativi impatti sul mercato del lavoro, la dinamica macroeconomica studiata attraverso lo sviluppo dei modelli ed agenti eterogenei e la diseguaglianza. A questo punto eh non vi rubo altro tempo, vi ringrazio ancora per l'attenzione, per esservi collegati con noi e do subito la parola a Federico Martelloni. Grazie mille. Grazie infinite Paolo per la tua presentazione, grazie più in generale alla Fondazione Lavoro per la Persona per questo invito. Eh non mi dilungo nei saluti e nei ringraziamenti anche se devo confessarvi che mi fa piacere partecipare a un'iniziativa su questi temi alla vigilia del primo maggio. Eh prometto di essere nei tempi e quindi eh vi eh prego di perdonarmi per le approssimazioni, i tagli, le grossolanità di cui mi renderò colpevole ma eh quello che posso promettervi è che è un'intenzione di eh servizio e rispetto dei tempi che mi sono stati assegnati e che Paolo ha ricordato. Dunque innanzitutto il lemma, la scelta di questa iniziativa, l'idea della cura del lavoro nel quadro costituzionale ha alcuni referenti anche di carattere tecnico giuridico al di là della dimensione evocativa che è stata ricordata nell'introduzione ma io rispondo subito di sì. Rispondo subito di sì perché nell'ordinamento giuridico italiano come ridisegnato da una carta che ha scelto di porre il lavoro alla base dell'edificio repubblicano vanno ricordati almeno due responsabili della cura del lavoro. Da un lato lo Stato che ha una serie di compiti finalizzati come è noto alla rimozione di ostacoli eh che anche in termini di fatto oltre che di diritto eh limitano diciamo il pieno sviluppo della persona umana anche attraverso il lavoro e per quanto riguarda i compiti dello Stato eh valgono i compiti che lo Stato assume con riguardo all'effettivo esercizio del diritto al lavoro eh valgono con riguardo alla tutela non solo della persona che lavora ma della persona che è impossibilitata a svolgere un'attività lavorativa o che è troppo anziana per svolgere un'attività lavorativa e quant'altro. Quindi non solo il diritto al lavoro, non solo il diritto del lavoro ma anche la eh assistenza e la previdenza sociale. E accanto allo Stato c'è un altro soggetto, un soggetto privato, il datore di lavoro che è accanto all'obbligo fondamentale di corrispondere la retribuzione in un contratto di scambio, di scambio di lavoro contro retribuzione, ha un secondo obbligo molto importante previsto da una eh norma del codice civile del 42 che è una delle norme più apprezzate specie dalle scuole che hanno molto insistito sul connotato personalistico del rapporto di lavoro. Penso visto che c'è qualcuno tra noi che ha frequentato la Cattolica di Milano a Luigi Mengoni e Mario Napoli tra i grandi giuristi che hanno approfondito questo tema. Il datore di lavoro ai sensi dell'articolo duemila e ottantasette del codice civile ha un secondo obbligo fondamentale che è un obbligo di sicurezza. L'obbligo di assicurare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. E questo obbligo è stato diciamo al centro nella complicata stagione della pandemia e si è dovuto bilanciare, ha dovuto prevalere su esigenze legate alla produzione, all'economia, alla continuazione dell'attività produttiva con mediazioni che il legislatore talvolta anche discutibilmente ha posto in essere. Secondo eh secondo elemento. Come la pandemia è intervenuta rispetto allo stato dell'arte che precedeva la pandemia? Su quale ambito è intervenuta e determinando quali effetti? Beh io direi che si può rispondere a questa domanda in tre maniere diverse. Primo punto. La pandemia ha senz'altro acuito alcune contraddizioni, alcuni elementi che erano già propri dei mercati del lavoro dell'Europa continentale, in particolare del mercato del lavoro italiano. La pandemia ha senza ombra di dubbio acuito le diseguaglianze tanto sociali quanto di genere. È arcinoto, lo dicono tutti i dati, che c'è chi eh in contesto pandemico si è arricchito, c'è chi si è impoverito e tra coloro che si sono impoveriti di lavoro e di reddito ci sono innanzitutto le donne e i giovani. Al tempo stesso la pandemia, ed è una seconda risposta, ha consegnato all'immaginario collettivo, al dibattito pubblico alcune centralità. Ci sono dei segmenti del mercato del lavoro anche particolarmente esposti e particolarmente fragili che hanno guadagnato una centralità a tratti persino drammatica, ma raccogliendo attenzione e anche empatia da parte dell'opinione pubblica. Faccio due esempi. Il lavoro di cura, compreso il lavoro svolto nel comparto sociosanitario, direi innanzitutto il lavoro svolto nel comparto sociosanitario, ma anche il lavoro nella logistica. E quando dico il lavoro nella logistica posso fare riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici delle aziende appaltatrici e subappaltatrici di grandi multinazionali come Amazon, per dirne una, o posso fare riferimento a quelli che Massimo Gramellini ha battezzato felicemente su un caffè che è stato molto letto dai miei colleghi, dalle mie colleghe giuslavoriste e giuslavoristi, i cavalieri della pandemia, i rider, coloro che in una certa fase in cui eravamo tutti costretti a casa, in ragione delle regole che ci hanno giustamente imposto il distanziamento sociale, e percorrevano le strade con dei visibilissimi cubi colorati per consegnare beni e cibo a domicilio. Terzo aspetto, terzo elemento, c'è qualcosa che resterà dopo la pandemia, c'è qualche elemento di permanenza nel post pandemia. E anche da questo punto di vista si possono immaginare diverse declinazioni di quelle che si annunciano come permanenze dopo la pandemia. Hanno delle accezioni molto negative e molto preoccupanti e possono avere delle accezioni anche positive persino con riguardo al tema della produttività del lavoro nella stagione post pandemica. Sotto il primo profilo, sul primo versante, a che cosa sto pensando? Beh, è noto che una maniera con cui l'ordinamento giuridico, lo Stato, se preferite, si è preso cura del lavoro e dei rapporti di lavoro durante l'emergenza da Covid-19 è stata la misura straordinaria, qualcuno ha detto persino socialista, del blocco dei licenziamenti. Come è noto è stata istituita da un primo decreto poi più volte prorogato un divieto, un blocco dei licenziamenti per ragioni oggettive, tanto individuali quanto collettivi, per evitare una emorragia drammatica di posti di lavoro in una fase che, come ricordava Paolo nell'introduzione, ha determinato un fermo di molte attività produttive. Ma questo blocco non è destinato a durare in eterno, anzi siamo alla vigilia del suo superamento. Superare il blocco dei licenziamenti vorrà dire che noi ne vedremo delle belle dal punto di vista degli effetti di crisi sanitaria che già si è fatta crisi economica e che diventerà sempre più crisi sociale. Come rispondere a questo problema? Io direi, dovendo diciamo segnalare due direzioni nel brevissimo tempo che ho a disposizione, in almeno due modi. Da un lato con una rete più ampia e universalistica di quanto sia oggi il sistema degli ammortizzatori sociali in Italia. E segnalo che il Conte Bis stava lavorando a una riforma ampia e fortemente inclusiva degli ammortizzatori sociali. E quando dico ampia e inclusiva intendo dire con la ferma intenzione di includere anche il lavoro non subordinato tra i destinatari delle misure di sostegno. Seconda gamba, io credo che la seconda gamba debba necessariamente essere quella di dosare, di governare le nuove iniezioni di liquidità, di risorse che ci stiamo apprestando a gestire, condizionandole alla sostenibilità sociale delle scelte che le imprese potranno compiere. Io eviterei contributi a pioggia, io condizionerei le iniezioni di liquidità nel sistema economico che ne ha un gran bisogno a chi compie delle scelte nella direzione della sostenibilità innanzitutto sociale e anche ambientale che è l'altra grande emergenza che avevamo alle spalle prima della pandemia e con cui siamo tenuti a fare i conti. Secondo versante, e chiudo, la pandemia ha di necessità assegnato centralità a modalità di svolgimento della prestazione lavorativa note all'ordinamento giuridico, penso allo smart working, introdotte anche di recente la legge sul lavoro agile è del 2017, è una parte della legge 81 del 2017 che per l'altro versante è lo statuto, come lo si è chiamato, di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale. Ma il lavoro agile è decollato con la pandemia perché consentiva di rispettare alcune misure sanitarie preziose ma rimarrà dopo la pandemia. Allora posto che questa forma del lavorare pone senz'altro dei problemi di invasività della dimensione lavorativa nella sfera privata. Quali scelte il legislatore e la contrattazione collettiva opereranno per salvaguardare un tempo persona, un tempo protetto dalla invasività del lavoro e insieme a questo elemento quali modalità per conciliare vita e lavoro saranno le direttrici su cui si muove questo strumento che, lo ricordava Paolo, in alcuni segmenti del lavoro sociale ha consentito incrementi di produttività. Ecco, queste sono ovviamente delle domande, delle questioni di fondo accennate e per titoli, ma mi pare corretto fermarmi qui per non sforare i tempi che mi sono stati assegnati. Dunque, sono io, se non erro, che continuo, diciamo, a rivolgere degli interrogativi ai nostri interlocutori. Ecco, ho provato a tracciare una griglia minima su cui mi piacerebbe molto che ascoltassimo le opinioni molto autorevoli degli invitati al webinar di oggi. E mi piacerebbe rivolgere a Maria Enrica Virgilito una prima domanda che un po' incrocia gli aspetti che io ho lambito in questo breve intervento. Ecco, la prima questione che le sottoporrei è la seguente. Le modalità di contenimento della pandemia hanno richiesto a tutti un enorme sforzo. Il lavoro in questo contesto è l'ambito che forse ha subito una pesante e decisiva depressione. Ora, che forse ancora in modo troppo ottimistico, iniziamo a pensare ad alcune strategie di ripresa. Cosa fare concretamente per curare il lavoro e tutelare con esso la persona che lavora? Anche a partire dall'ambito del lavoro di cura, perché no? Allora, io intanto vi ringrazio e sono molto contenta di partecipare a questo incontro oggi. Grazie al professor Martelloni per l'introduzione molto efficace e devo dire di ampio respiro che ha illustrato. Spero di toccare in maniera tangenziale alcune delle questioni che sono state poste. Chiaramente anche il mio intervento non sarà esaustivo, però cercherà di darvi un quadro a partire dal titolo anche di questo webinar, ossia curare il lavoro e partirei dal cambiare l'ordine dell'obiettivo del seminario, curare il lavoro e portare un pochino in essere il ruolo del lavoro di cura in questo primo intervento per darne una nozione più ampia e più estesa, per capire la necessità che da un punto di vista sociale e collettivo si pone oggi rispetto all'investimento nel lavoro di cura. Cercherò poi di, in questa prima domanda, dare in qualche modo una visione sulla necessità di estendere la protezione sociale universale che è stata messa sul piatto nell'intervento del professor Martelloni e del perché i dati drammatici dell'Istat ci raccontano esattamente di un calo degli occupati concentrati in quei segmenti che non hanno visto forme di sicurezza occupazionale. La sicurezza occupazionale si traduce poi chiaramente in sicurezza reddituale e in sicurezza sociale. Quindi io parto con l'intervento e poi chiaramente sono ben disposta ad accogliere domande. Allora, la pandemia ha rimesso in luce l'importanza del lavoro di cura. Che cosa intendiamo con la nozione di lavoro di cura? Prima di tutto vorrei cercare di estendere la nozione del lavoro di cura dalla semplice idea del lavoro di cura legato all'assistenza all'individuo, che è una funzione fondamentale alla più ampia nozione di lavoro di cura, come tutte quelle attività umane che sono volte al cosiddetto prendersi cura degli altri. Moltissimi lavori e moltissime mansioni all'interno dell'assetto produttivo contemporaneo prevedono delle forme del prendersi cura degli altri e chiaramente ci sono dei gradi, diciamo se volete, differenziati di questa funzione rispetto tra le varie occupazioni. I tre principali settori ai quali possiamo attribuire, se volete, la nozione di lavoro di cura, anche a partire dalla prevalenza di questa attività, di quanto spende il lavoratore, la lavoratrice nel proprio tempo di lavoro nell'attività di curare altri, sono l'istruzione, la sanità e i servizi di assistenza e cura alla persona. La domanda di tale lavoro è ampiamente aumentata nel tempo e quello che si prevede sulla base di statistiche che sono state prodotte dal Bureau Labor Statistics negli Stati Uniti è che nei prossimi dieci anni sei tra le principali occupazioni saranno concentrate nel settore del lavoro di cura così ampiamente definito. Tuttavia, se da una parte aumenta, se volete, in termini economici una domanda di un aumento di bisogno di lavoro di cura, c'è anche un problema dell'accesso del, se volete, finanziamento o comunque in termini strettamente economici, se anche non mi piace, dell'offerta del lavoro di cura. Perché dico questo? Perché questi tre settori sono tre settori che storicamente hanno visto una larga presenza del pubblico. Tuttavia, noi dobbiamo accostare un aumento del bisogno del lavoro di cura a un processo graduale di privatizzazione di questi settori. Tale processo di privatizzazione è risultato in una riduzione della spesa pubblica per tali settori. Vediamo in particolare il calo nel settore dell'educazione, vediamo il calo nel settore della sanità pubblica ed una riconfigurazione e rifunzionalizzazione della sanità privata verso che cosa? Verso quelle attività, verso quelle funzioni che sono, se volete, a basso grado di rischio e ad alto grado, se volete, di rendimento e di profitto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che un assetto sanitario di tipo privato non focalizza la propria attenzione, la propria, diciamo, organizzazione interna nelle attività, ad esempio, di monitoraggio e di controllo, ma neanche nell'attività del pronto soccorso, tantomeno nelle terapie intensive. Questo non lo dico io, lo dice il professor Garattini che, come sapete, è un'illustre figura nel campo medico e, diciamo, la graduale penetrazione del privato negli spazi del pubblico porta a mettere, come dire, in discussione questo bilanciamento. Da una parte un aumento di bisogno, un aumento di esigenza di queste mansioni e dall'altra parte un arretramento dello spazio e dello Stato sociale. Adesso il PNRR, la mia valutazione, ma poi su questo possiamo anche concentrarci, di fatto non dà segnali particolarmente positivi e, in termini occupazionali, se mettiamo insieme questi tre segmenti, copriamo all'incirca 4 milioni e mezzo di lavoratori. Fatemi fare un focus in particolare sul settore dei servizi di assistenza e di cura alla persona, in cui purtroppo questo settore è di fatto gestito da forme di gare d'appalto che sono basate sulla legge del massimo ribasso. La legge del massimo ribasso comporta che tutti i driver di organizzazione interna dei processi produttivi si concentrino sulla riduzione dei costi e la riduzione dei costi si scarica poi sui tempi e sui ritmi di lavoro di operatori e operatrici. A questo punto, se vogliamo tracciare, diciamo, dei connotati di comunanza tra questi tre settori, ma io direi in generale rispetto ai vari settori produttivi, l'ideologia che è andata avanti negli ultimi trent'anni è quella per la quale il lavoro è un costo. Allora, qui si pone una questione fondamentale. Il lavoro è un costo o il lavoro è il processo intrinsico della generazione di valore nei beni e nei servizi che sono prodotti? Un esempio archetipico che voglio farvi è legato a tutta questa questione che è chiaramente oggetto di osservazione e di analisi da parte di svariati centri di studio, insomma, dell'accademia, del dibattito pubblico, che è il ruolo dell'automazione. Allora, se voi pensate al grado di automazione e di sostituibilità nei lavori di cura, come sono stati submenzionati, questi sono i lavori che presentano il più basso grado di capacità di essere automatizzati. Perché? Perché in realtà le funzioni sottostanti a questi processi, pur sembrando semplici nell'esecuzione, sono estremamente complessi. Perché richiedono, per esempio, capacità di coordinamento dei movimenti, la capacità di mettere insieme una dimensione cognitiva e una dimensione relazionale e anche una dimensione di mobilità che non sono assolutamente semplici da sostituire con la macchina. E perché vi faccio questo esempio? Perché voglio sostanziare il fatto che purtroppo gran parte di quel lavoro che ha generato valore, se questo valore viene definito in termini della retribuzione che questo lavoro ha ricevuto, ha mancato di fatto di dignità e ha mancato del ruolo invece che dovrebbe ricoprire. Perché? Perché aumenta il bisogno. Questo aspetto dovrebbe quindi farci mettere in luce una necessaria riflessione sulla riconfigurazione della nozione del valore nel processo di produzione e di distinguerlo anche dalla dimensione salariale. Continuo dicendo che le misure che sono state prese durante la pandemia non hanno garantito gran parte di quel lavoro di cura che si basa su contratti a termine e contratti di somministrazione. Dei 900.000 occupati in meno il calo più marcato è stato tra appunto dipendenti a termine, autonomi e giovani e qui metterei in realtà tante e alla fine perché molti di questi individui sono donne. È mancata di fatto una sicurezza sociale universale. Ora se questo è come dire il contesto che emerge ed esplode e si amplifica nella fase pandemica, la fase pre-pandemica è stata una fase che è stata, se volete, governata dal mantra per il quale la diseguaglianza è il motore dello sviluppo. E la diseguaglianza è meritocratica. Perché? Perché la diseguaglianza nel reddito, nelle condizioni di vita, quindi il fatto che io possa vivere nel centro di una città rispetto che è una periferia, la diseguaglianza nelle carriere è molto ancora oggi vista come derivante dalle abilità cognitive degli individui. Gli individui che vivono al centro di una città che godono di 50 metri quadri a persona, scusate, di 150 metri quadri a persona che hanno ampi spazi per poter svolgere magari il loro lavoro da casa, sono persone che meritano le condizioni di privilegio alle quali sono esposte. Questa condizione della meritocrazia ci ha fatto anche perdere, se volete, in qualche misura perdere l'oggetto, perdere la barra di osservazione rispetto alle determinanti della diseguaglianza. Perché se voi prendete la dispersione, la diseguaglianza nelle abilità cognitive tra gli individui e la diseguaglianza nei redditi degli individui, la diseguaglianza nei redditi è molto più ampia che nelle abilità degli individui. Questo vuol dire che non necessariamente il merito e le capacità individuali, come dire, determinano il reddito. La diseguaglianza non passa solamente infatti dalla dimensione dell'individuo, ma passa molto più da condizioni di tipo strutturale. Queste condizioni strutturali sono la provenienza, l'origine, la dimensione territoriale e queste vanno inquadrate, queste diseguaglianze vanno inquadrate all'interno di un paese in cui la mobilità sociale, quindi la possibilità di miglioramento rispetto alle condizioni di partenza, si è di fatto cristallizzata e questa cristallizzazione è stata sancita a partire dal, se volete, dal 93-94 e oggi la vediamo nella sua massima diciamo espressione. Questo perché è accaduto? È accaduto perché il ruolo dello Stato sociale come garante dell'equità è stato progressivamente minato, il pubblico ha ristretto i suoi spazi di spesa e non solo i suoi spazi di spesa, ha ristretto anche l'assetto istituzionale, la sua capacità di intervento, perché? Perché è stato eguaiato al pubblico di tipo parassitario e di tipo improduttivo. Tuttavia questo è un paese in cui l'arretramento del pubblico corrisponde a, per esempio, un sistema scolastico che non è ancora in grado di garantire parità di formazione, in cui l'abbandono risulta ancora fortemente presente, molto stratificato nelle periferie e in cui la povertà riguarda circa 3 milioni di persone che di fatto lavorano. Allora, se queste sono le condizioni, diciamo, di partenza e a queste condizioni di partenza si stratifica, si accende la miccia della pandemia, capite bene come o si ripensa a un'intera riorganizzazione dell'assetto sociale oppure, come dire, le condizioni non sono delle migliori. Dunque, Maria Erika Virgilito ha dato una risposta, diciamo, talmente ricca che verrebbe voglia di chiosare su ogni aspetto. Solo due cose mi paiono da sottolineare. Da un lato lei insiste su un elemento, e cioè il fatto che il lavoro povero nel nostro sistema coincide in larga misura con il lavoro negli appalti, perché gli appalti sono in larga misura determinati dalla scelta di comprimere il costo del lavoro, in una stagione in cui è stata superata una regola antica, la parità di trattamento nel lavoro degli appalti, prevista da una vecchia legge della 1369 del 60, e in secondo luogo insiste su una chiave di lettura dell'emma diseguaglianza, per il quale per un verso si è sostituita la diseguaglianza verticale da riequilibrare con il tema dell'uguaglianza orizzontale, e per l'altra addirittura si è ritenuto che le diseguaglianze fossero un motore di progresso. In estrema sintesi, davvero in estrema sintesi, è proprio vero che la produttività, l'efficienza, ha bisogno di superare queste leve della tutela alle quali hai fatto a più riprese riferimento, o c'è un altro modo per riaffermare alcune prerogative del lavoro e dei lavoratori, anche alla luce della nuova dimensione che oggi assume il concetto di sicurezza? Io su questo vorrei partire da un dato provocatorio, sarò brevissima, il dato provocatorio è che se prendete i dati dell'Istat rispetto all'andamento della produttività per ora lavorata, questa produttività è aumentata. Perché ciò è accaduto? Produttività variazione annua dal 2020 al 2019. Ciò accade perché la riduzione delle ore lavorate è stata ampiamente maggiore della riduzione del valore aggiunto. Fatta questa premessa, quindi il fatto che guardare alla produttività in termini aggregati deve essere qualificato perché possiamo avere degli effetti, come dire, di confusione legati dal dato, così come a giugno 2020 era stato diffuso il dato che la disoccupazione fosse diminuita. Ciò era accaduto solamente per un aumento della transizione verso l'inattività, quindi stiamo attenti ai dati che guardiamo. Il punto che vorrei mettere in luce è questo. Che cos'è che determina la produttività? Dal punto di vista meramente economico e delle statistiche. Il primo driver di aumento di produttività è l'investimento. L'investimento netto nel settore della manifattura in attrezzature, impianti e strumentazioni in Italia è largamente negativo nell'ultimo decennio, dagli anni 2013 al 2017, con segnali di ripresa nel 2018. La produttività stagna in Italia, ma non stagna per tutte le imprese. Il tessuto è caratterizzato da una forte dicotomia tra che cosa? Due tipi di imprese. Imprese che stanno sul mercato del lavoro, passatemi il termine, galleggiando ed imprese che pagano, che sono imprese tendenzialmente che investono poco, pagano bassi salari e un cosiddetto fringe di imprese che invece presentano alta capacità organizzativa, capacità di investimento, strutture di gestione della forza lavoro non basate sul controllo e sul monitoraggio, ma invece sulla partecipazione e sulla crescita formativa, sull'autonomia nel processo di lavoro. Tale dicotomia che se la potete mettere in termini gazzella tartaruga ha portato all'emergere di un forte dualismo nella struttura produttiva e ciò si lega, ma non è del tutto spiegato, dalla dimensione di impresa. Questo dualismo l'abbiamo visto anche nella capacità delle imprese di mettere in piedi dei sistemi di sanificazione degli impianti della struttura interna, del per esempio garantire ai propri dipendenti, ai propri dipendenti delle condizioni sanitarie decenti, nelle capacità di monitorare il fatto, di prevenire il fatto che il virus potesse diffondersi all'interno dei luoghi di lavoro. Se prendete i macelli sono stati uno dei luoghi in cui, così come il settore della logistica, in cui la diffusione del virus è stata maggiore. Adesso quali sono le policy che servono per incrementare questa produttività? Prima di tutto occorre fare, cioè favorire un processo di creazione di dipartimenti di ricerca e sviluppo all'interno delle imprese ed occorre avere un cambio totale nella gestione delle politiche del personale, che devono passare da gestione delle politiche volte al controllo e al monitoraggio a quelle volte invece alla partecipazione diretta degli individui nel processo di lavoro. E occorre ridurre e non aumentare i carichi di lavoro. Chiudo citando la Spagna che ha avviato da quest'anno un processo di sperimentazione della riduzione dell'orario di lavoro da 36 ore medie a 32 ore e chiudo sottolineando che in Italia la media delle ore lavorate è di 37-38. Quindi le mie considerazioni che vorrei fare è la produttività aumenta se ci sono processi di investimento, la produttività aumenta se c'è coinvolgimento nel processo di lavoro. Fine della fine. Molte grazie Maria Enrica Viorgillito, davvero ricchissima e molto suggestiva questa rappresentazione. Passerei la parola a Mario Fiumara, al quale vorrei subito un tema sul quale già Maria Enrica ha insistito, specie nell'ultima domanda. Sostenibilità, sicurezza e produttività. Spesso vengono rappresentati come poli inconciliabili, alternativi di un discorso. Esistono delle policy che consentano una nuova stagione della produttività in grado di far mantenere alla sicurezza, alla centralità che ha assunto e tenendo la sostenibilità, anche la sostenibilità sociale, come imperativo? Vi è questa possibilità di quadratura del cerchio? Mario, ti chiedo di accendere il microfono, per favore. Eccomi, sì, grazie. Volevo, riprendo. Innanzitutto volevo ringraziare l'organizzazione per avermi voluto aiutare a questo interessantissimo webinar. E poi vorrei fare anche mie una parte delle sue premesse e quindi cercherò di essere anch'io nei tempi, a costo di essere molto sintetico. Dunque, io credo che noi viviamo in un momento storico piuttosto complesso che ci fa apparire spesso inconciliabili o comunque contraddittori esigenze, obiettivi, necessità che invece dovrebbero inerottabilmente essere portati avanti congiuntamente. Da questo punto di vista probabilmente la situazione si è un po' anche ingarbugliata ulteriormente con l'innesto nei nostri tradizionali schemi di valutazione e di giudizio della variabile sostenibilità, che è una variabile oggi decisiva, importantissima, dalla quale non si può sottrarre. Purtroppo anche coloro i quali cercano risparatamente di dimostrare che il problema non sussiste, ogni tanto vanno a sbattere contro l'evidenza. Quindi, è legito possi la domanda se cercare di incrementare, come è doveroso per un paese come l'Italia, in cui la produttività non cresce da 20-25 anni. Cercare di incrementare la produttività è un rischio, può andare a discapito della sicurezza del lavoro e della sostenibilità? Beh, io sarò ottimista, però francamente ritengo proprio di no. Se qualcuno sostiene questa tesi, io ritengo che sia il problema. Perché questa tesi sottende un po' l'idea piuttosto semplicistica che la produttività del lavoro dipenda dalle ore lavorate, dalla quantità di ore lavorate, oppure dall'intensità del lavoro, i ritmi, i carichi, i soliti. Non è così. Perché se fosse così, noi non potremmo spiegare in alcun modo il grande divario di produttività che esiste, per esempio, tra la Germania e l'Italia, tra la Francia e l'Italia. La Germania, negli ultimi vent'anni, ha visto crescere la sua produttività del lavoro di circa 22 punti per centinaio, mentre invece l'Italia ha visto crescere la sua produttività del lavoro di 3 o 4 punti, peraltro acquisite tutti negli ultimi 5 anni a seguito, probabilmente, io penso, presumo, a seguito di quell'iniziativa dell'ex ministro Calenda, Impresa 4.0, che ha, come dire, agevolato gli investimenti delle imprese produttive, soprattutto in tecnologie. In realtà, per poter rispondere a questa domanda, secondo me, dobbiamo cercare di capire quali sono i veri driver della produttività. Che cos'è che influenza la produttività di un'azienda o di un sistema? Diciamo meglio di un sistema che è il sistema Italia, per quello che ci interessa. Non è la quantità di ore lavorate, non è il carico di lavoro, è l'organizzazione del lavoro, è la tecnologia più o meno innovativa che si usa nell'organizzazione del lavoro. La produttività è influenzata anche, in maniera significativa, dai vantaggi di scala. Fare incrementi di produttività in una multinazionale o in una grande impresa è certamente più facile che in una microimpresa. Quindi, un sistema economico come quello italiano, in cui ormai, come dire, non esistono più grandi imprese. Noi non abbiamo il numero di grandi imprese che hanno in Francia o in Germania, ma abbiamo un tessuto di piccole e piccolissime imprese che inevitabilmente fanno investimenti proporzionati a quelle che è la loro dimensione. È chiaro che questo è un fattore di difficoltà nella crescita della produttività. La produttività, poi, è anche molto influenzata dal livello di investimenti che si fa in formazione del lavoratore, cioè quanto tu investi in competenze e in capacità, quanto investi per migliorare queste competenze e queste capacità. Teniamo presente che in Germania si lavora mediamente 1.350 ore l'anno. In Italia si lavora mediamente 1.730 ore. Abbiamo qualcosa come quasi 400 ore in più di lavoro, un'enormità. Dovremmo avere noi una produttività mille volte superiore a quella della Germania. Non è così, perché? Perché la produttività del lavoro non dipende dalla quantità di lavoro. Dipende anche, e aggiungo questi due ultimi fattori, che secondo me per il nostro Paese sono particolarmente importanti, la produttività dipende dal grado di concorrenza che esiste in un determinato mercato e dalla situazione legislativa ed amministrativa in cui le aziende operano, e in cui l'economia si svolge, precisamente. Se noi andiamo a guardare la produttività per settori nel nostro Paese, ci accorgiamo che la produttività del settore manifatturiero, che però ahimè pesa solo il 18% del totale dell'economia, è più o meno accettabilmente confrontabile con la produttività del settore manifatturiero, francese o tedesco o di altri Paesi, perché sono settori che sono costretti ad operare in un regime di competizione e di concorrenza, interna o esterna. Il settore dei servizi invece, che pesa più del settore manifatturiero, in Italia non conosce minimamente che cos'è la concorrenza, anzi potrei dire, senza deba di apparire esagerato, che le corporazioni che operano nei servizi sono ancora oggi talmente capaci di condizionare le scelte pubbliche e quindi di frenare qualsiasi cambiamento a avere più o meno la stessa peso e la stessa forza che avevano in un ortano medioevo. Ma non è molto diverso da allora. E se voi ci riflettete, noi viviamo in un Paese dove fino a 5, 6, 7 anni fa chi aveva l'autorizzazione di aprire un negozio, si vedeva imporre un orario massimo, non un orario minimo come servizio al pubblico, no, un orario massimo. Tu non potevi tenere aperto più di quelle ore perché altrimenti facevi concorrenza a gli altri. Quindi, per l'Italia, il tema concorrenza è decisivo perché il settore dei servizi supera per peso specifico all'interno del PIL complessivo e infine c'è il tema della pubblica amministrazione. Se non si ha il coraggio di intervenire su quello e se si continua a far gravare sulle imprese italiane, il manicatturiero di servizi che siano, costi dell'ordine di 57 miliardi l'anno solamente di rapporti diretti con la pubblica amministrazione e senza contare le perdite di tempi, di spese regali, eccetera, eccetera, la pubblica amministrazione comporta. Ora, è evidente che tutto questo è per l'Italia un vincolo che finora è stato insommontabile. Io ho preso atto con piacere del fatto che il governo attuale nel redigere il piano nazionale di resilienza e di ripresa abbia fatto due accende importanti alla riforma della pubblica amministrazione e alla concorrenza, perché evidentemente è chiaro anche a loro che il problema è lì. Quindi, io non trovo assolutamente inconciliabile il fatto che in un paese come l'Italia si possa puntare ad avere incrementi notevolissimi di produttività senza mettere in discussione minimamente e se c'è qualcuno che sostiene il contrario è in malattia, senza mettere in discussione minimamente il fatto che la sicurezza sul lavoro e la sostenibilità siano comunque fattori che possono essere salvaguardati nel mentre si ricerca l'aumento della pubblicità. E' ovvio che devi adottare delle polisi che vadano in questo senso. Cioè, tu devi in qualche misura spingere e incentivare gli investimenti in formazione del personale, formazione, 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 quanto è più possibile, devi incentivare gli investimenti in tecnologie moderne e innovatiche, devi quindi lottare contro le introstazioni come abbiamo detto, anticoncorrenziali che ancora intervessano nel Paese, devi avere il coraggio di incidere sulla pubblica amministrazione che prima o poi dovrà essere trasformata da palla altidese dell'economia a elemento facilitatore del fare. Mario, ti vorrei chiedere una cosa, ma questo quadro che rappresenti può avere una particolare declinazione in un segmento, una direttrice, un obiettivo che viene sottolineato moltissimo anche dalle istituzioni sovranazionali, quelle dello sviluppo sostenibile, perché l'Agenda 2030 pone molta attenzione per un verso al lavoro dignitoso, per l'altro alla crescita economica e taluno indica questo elemento dello sviluppo sostenibile come una grande possibilità anche di rilancio dell'economia con sostenibilità ambientale e sociale. Che cosa pensi, diciamo, delle cose, dei ragionamenti che hai sviluppato rispetto a questo elemento particolare? E poi ripassiamo la parola a Paolo Bonini per le conclusioni di questo incontro. Il tema della produttività è un tema che esiste e angoscia un po' l'economia italiana da 25 anni circa, quindi è un po' atavico, ce lo portiamo dietro e ci siamo, come dire, quasi abituati al declino e alla perdita di competitività. Il tema che invece mi sta ponendo lei con questa seconda domanda è diverso, cioè la dignità del lavoro che è affermata dal Gol 8 dell'agenda 2030 che impegna i paesi di imbattare di quella gente, cioè quindi tutti i paesi dell'agenda, tutti gli aderenti all'ONU hanno affermato nel 2015 quella gente. Li impegna tutti a cercare di operare per arrivare a quel team che è quello della tutela ovviamente da uno sviluppo sostenibile, della sostenibilità in genere e quindi della lotta alle disuguaglianze, soprattutto quelle disuguaglianze che dipendono da fattori aggredibili in maniera evidente. E quindi anche qui la domanda è che pare di capire ma è conciliabile in questo contesto di crisi globali, di crisi generalizzata, di recessione all'inizio di questo secolo se vi ricordate si parlava ma ancora se ne parla di stagnazione secolare e non è che fossero ragionamenti campati in aria perché c'erano e ci sono ancora delle condizioni che dobbiamo ritenere che si tendono più verso la deflazione che verso l'inflazione. Ora sono inconciliabili questi due obiettivi cioè quello di tutelare il lavoro, assicurare lo sviluppo sostenibile e venire fuori da questa situazione di recessione globale. No, anche qua io rischio di diventare troppo ottimista ma anche qua non è così, non la vedo. È chiaro che mai come in questo momento il lavoro è stato bisognoso di cure e bisognoso di attenzione perché mai come in questo momento soprattutto dal topo guerra in poi o dai paesi occidentali siamo trovati ad avere problemi seri sulla qualità del lavoro sulla dignità del lavoro intesa in tutte le sue sfaccezioni. Io credo che noi abbiamo subito in quest'ultimo 30-40 anni l'effetto dei due megatrend molto forti ai quali non abbiamo avuto la capacità di ottenere. Uno è la globalizzazione. La globalizzazione è stato un fenomeno che ha generato grandi obiettivi, ha avuto grandissimi meriti per molti aspetti però ha avuto anche delle controindicazioni. una di queste controindicazioni è stata quella di aver portato la competizione globale sul piano della competizione dei sistemi tra sistemi paesi con questo creando delle situazioni di continue fibrillazioni macroeconomiche che hanno poi in pratica generato un sistema in cui il lavoro veniva a perdere forza relativa nei confronti del capitale cioè l'effetto principale che ha avuto ai fini di questo webinar la globalizzazione è stato quello di squilibrare di alterare l'equilibrio tra capitale e lavoro che si era creato in 50 anni dopo la guerra. Questo squilibrio è stato questo equilibrio è stato disarticolato a beneficio del capitale e a danno del lavoro con ciò creando i primi gullus poi secondo me il secondo megatrend estremamente impegnativo e molto molto impattante è stata la digitalizzazione dell'economia perché tra robotica domotica stampanti 3D intelligenza artificiale eccetera 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 si è generata poco a poco senza che neanche ce l'accorcessimo una vera e propria modifica strutturale del mondo della vita e possiamo dire in pratica che siamo immersi in una nuova rivoluzione industriale che sia la quarta la quinta poco in fondo che sta operando come hanno operato le precedenti cioè distruggendo avendo una fase distruttiva di lavoro è una fase costruttiva che spesso non coincide dal punto di vista temporale e in più direi che va sottolineato come le caratteristiche peculiari di questa rivoluzione industriale che è data dalla rivoluzione informatica digitale sono sono queste innanzitutto il fatto che la rivoluzione digitale impatta prevalentemente il lavoro cosiddetto intellettuale a differenza di quelle precedenti che impattavano sul lavoro manuale rendendolo più leggero meno pesante in più il i posti di lavoro che finora da quello che abbiamo visto la la digitalizzazione produce diciamo che sono pochi i posti di lavoro altamente qualificati e ben retribuiti e sono molti i posti di lavoro che crea che sono poco qualificati poco retribuiti e direi anche poco stabili piuttosto precari quindi di fatto questa questa questo evento importante la digitalizzazione poi c'è un terzo terzo fattore che non vanno dimentichiamo la digitalizzazione può consentire che si perda il lavoro in un punto geografico e venga sostituito con il lavoro in un altro punto geografico noi possiamo perdere lavoro a Roma e vederlo sostituito con il lavoro a Dublino e l'abbiamo già visto quindi la la digitalizzazione ha creato questa situazione in cui ovviamente il lavoro ha avuto un periodo di sofferenza poi non dimentichiamo cerco di concludere la cosiddetta platform economy cioè l'economia della piattaforma dell'economia degli algoritmi l'economia di Uber l'economia di Airbnb di Fudora eccetera questa queste queste nuove forme di economia gestite da un sofisticato software che crea una piattaforma e gestito da un algoritmo che cosa producono che cosa hanno prodotto hanno prodotto che è venuta meno la la chiarezza della linea di confine tra lavoro subordinato e si è creato una nuova un nuovo il concerto che è il lavoro autonomo subordinato cioè un lavoro privo di tutto qua quindi anche questa è una complicazione allora come si fa come si fa a sperare di venire fuori da questi problemi secondo me è proprio come diceva lei cioè è proprio lo sviluppo sostenibile che ci porterà fuori da questa che quadrerà il centro cioè che consentirà di venire fuori dalla recessione e di salvaguardare la dignità del lavoro perché perché di fatto il sistema di sviluppo sostenibile delineato dai 17 obiettivi dell'agenda ONU 2030 a parte come dire il fatto che è un discorso di sostenibilità a 360 gradi che completa la sostenibilità economica quella sociale e quella ambientale ma fondamentalmente richiede un cambio di paradigma una modifica sostanziale del modello di sviluppo su cui ci siamo basati finora dalla prima rivoluzione industriale e bisogna passare inevitabilmente da un modello di sviluppo attuale ad un altro modello di sviluppo in cui si inquini di meno e si consumi di meno si consumi meno materia cioè bisogna andare verso la decarbonizzazione e verso l'economia circolare per dirla in parole chiare per fare questo solo in Europa è necessario spendere nel decennio attuale diciamo 2021-2030 qualcosa come 250 miliardi l'anno di cui 100 sono stati già impostati dalla Commissione Europea gli altri dovranno essere messi sul mercato dai singoli stati e dall'azienda privata quindi in futuro i soli investimenti in decarbonizzazione ed in economia circolare saranno quelli che consentiranno di ovviare la perdita di lavoro che può derivare da quei fenomeni che avevamo detto perché tutti i calcoli che vengono fatti dagli studiosi più avveduti dicono che se si farà quello che si sta per lo meno in Europa prefigurando di fare con la Commissione von der Leyen con l'ex generation EU eccetera si andrà a creare le condizioni per creare più lavoro di quanto sono distrutti molto più stabile molto più dignitoso io ci credo e ci spero ma non vedo non credo che ci siano altre strade e quindi dice Mario Fiumara che dopo la crisi del compromesso socio-economico di matrice taylorista fordista che aveva come suo ambito di dispiegamento lo Stato-Nazione messo in crisi dalla globalizzazione dopo la rivoluzione digitale che è anche despazializzato il lavoro una prospettiva possibile forse l'unica è un New Deal sovranazionale per un verso socialmente sostenibile ambientalmente sostenibile come chiave possibile di rilancio le vostre le vostre risposte sono state molto molto ricche molto suggestive i tempi mi impongono di passare la parola a Paolo Bonini per le conclusioni e per quel poco che posso intanto vi ringrazio moltissimo perché le cose che avete detto anche diverse in parte diverse sono state molto interessanti grazie mille professore in realtà appunto sono conclusioni diciamo operative non vogliamo togliervi altro tempo perché visto che ci siamo allungati ringraziamo davvero tutte le domande che sono arrivate non abbiamo modo purtroppo di dargli voce quindi e come sempre come è tradizione ormai dei webinar della fondazione torniamo a casa con più domande ancora più domande che non risposte e che nonostante tutti i temi trattati io volevo ringraziare subito Giorgio Tintino project manager del centro di ricerca e il nostro presidente Gabriele Gabrielli presidente della fondazione per aver organizzato tutto questo e vi dico solo tre cose il prossimo webinar della fondazione a cui vi diamo appuntamento è previsto per venerdì 14 maggio alle ore 18 e 30 e sul tema lavoro scuola e società quale spazio per le nuove generazioni e quindi vi aspettiamo ancora per continuare a riflettere sull'impatto che appunto il lavoro e la scuola possono generare per le nuove generazioni e il secondo punto è che per chi lo desiderasse continueremo ad aggiornarvi su questo e altri temi su tutti i nostri canali social sui principali social network e infine se appunto tutti le persone che si sono connesse che ci hanno seguito condividono con noi l'interesse nell'investimento nella cultura nell'educazione nella ricerca da questa prospettiva sono chiaramente invitate a sostenere i lavori della fondazione attraverso il 5x1000 quindi vi ringraziamo davvero ancora per la pazienza ringraziamo i nostri autorevoli e davvero interessanti relatori e ci diamo appuntamento allora il 14 maggio e buona festa del lavoro a tutti quanti e a tutte quante